Il nostro servizio ha avuto un grande successo rispetto a giovani ma anche meno giovani che vogliono intraprendere un'attività e il supporto che andiamo a dare è proprio quello di aiutarli a creare un business plan che poi dopo dia loro maggiori possibilità di successo. Abbiamo fatto proprio delle verifiche e abbiamo visto che le imprese che superano questo tipo di selezione, di verifica e di supporto hanno poi una maggior possibilità di avere un successo nella loro attività economica. Tenete presente che noi partiamo da un'analisi delle capacità e delle competenze delle persone, verifichiamo la loro idea imprenditoriale, valutiamo la solidità, la liquidità, la disponibilità di capitali da parte dell'imprenditore e costruiamo sulla base di questa una previsione e è da tutti questi lavori che noi alla fine siamo in grado di poter dire che l'impresa avrà veramente buone opportunità di sviluppo. L'evento celebrativo di questo bienio di sportello di sostegno alla competitività delle imprese, un servizio gratuito messo a disposizione da Camera di Commercio di Genova insieme a Fondazione Carige, un servizio di supporto all'avvio di impresa e al consolidamento e allo sviluppo di imprese già esistenti, gestito dal CLP, Centro Ligure e Produttività, che è l'ente formativo del sistema Camera di Ligure. Dobbiamo fare un distinguo tra chi deve ancora aprire attività e chi ha già aperto attività e chi deve ancora aprire attività sicuramente ha un supporto, ha necessità di un supporto a 360 gradi per tutto ciò che riguarda la costruzione del progetto di impresa. Per quanto riguarda le imprese già esistenti, assolutamente un supporto gestionale, amministrativo, quando parliamo di piccola impresa, parliamo di micro impresa, a volte veramente manca un po' di competenza, capacità manageriale di sviluppare il business, di consolidarlo, al di là del mero credito. Anche un pochino l'apparato industriale, ma non è semplice comunque avviare attività di questo genere, l'apparato agricolo evidentemente è una regione a meno vocazione agricola, ma sicuramente commercio e servizi e qualcosina è meno artigianato. Mi preme sottolineare le quote rosa, nel senso che stanno aumentando sempre di più le imprese femminili o comunque l'utenza femminile che vuole mettersi in proprio e vuole provare appunto questa sfida dell'autoimprenditoria.